Come sarà darsi di nuovo la mano, un bacio di amicizia, una paccata sulle spalle, ora che il paese con la vaccinazione avanzata sta aprendo? Da oltre un anno abbiamo dismesso un rituale che bene o male ci rendeva per un attimo più vicini, consentendoci un contatto fisico se più fugace, che però non era una privo di sensi, se oggi ne avvertiamo l'assenza, insieme ad una certa difficoltà psicologica a ripristinare gesti di saluto consueti fino all'inizio della pandemia. Che ci ha lasciato anche questo, il mantenimento delle distanze, seppur inconscio, una sospettosità che sarà presto superata e che tuttavia la dice lunga sugli incubi che Covid ha seminato. Ne parleremo domenica sera alle 20 con il professor Pietrini, psichiatra di livello internazionale e che ci ha rilasciato testimonianze rilevanti sull'idea di felicità. Il corpo è tutt'uno con la psiche e questo è noto. Ciò che invece abbiamo imparato in questi terribili mesi è la fragilità e l'universalità al tempo stesso dello stato umano, la sua capacità di reazione unica nel mondo dei primati, ma anche lo shock subito proprio in quanto essere intelligente. Bentornino dunque e al più presto antichi gesti che forse per una volta saranno meno formali del solito.